oggi inizia The Fast Week che ci porteranno in questo posticino non saremo solo noi infatti qui vedete due nostri molti ospiti e poi ne arriveranno altri quindi seguiteci non succede siamo qui siamo arrivati le stanze dove sono vieni con me ti porterei la stanza questa è la nostra stanza la tazza di defausi questa è bellissima questa è il c'è raga guarda sei ai miei figli io farò bere il latte con questo ciao simone o tommaso sono contento di ospitarti qui per l'intera settimana questo è il tuo welcome kit ora non devi fare altro che goderti il posto interagire in modo def con gli altri componenti conoscere e farti conoscere sei pronto a metterti in gioco benvenuti alla defaus week abbiamo convinto abril per fare la sfida di defne anche se non sono molto convinto io no non è molto convinta nemmeno lei però adesso dobbiamo trovare il secondo partecipante con questa grandissima sfida così Daphne ci dà una sorpresa, una ricompensa in cambio quindi il secondo è Jacop, Jacopo è perfetto C'è il livello per lo tirano Jacopo! Il Fausio bisogna te, bro Sì? Ora, vieni qui, bro Vi bisogna te, bro Vieni, 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 vieni Abbiamo il secondo Ok, ora vi spiegherò cosa hai fatto Cosa hai fatto, ok? Ok, devi correre 2 km, facile In 30...13...30? 13, 1 3, 2... 3-0 3-0 Yeah, vieni viene 3 2 1 Let's go! Torre Corre Torre 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 Trore Te estro Do Torre Trore Tro sten Ciao ragazzi, questo è un video tutorial su come fare il backflip, esatto, è molto semplice, tu fai così e ti slanci, ok, ok, e cerchi di fare una caprivala indietro, facciamo così, cerca di prendere le gambe, no fioi, no fioi, bravo, no, bello bello largo, no fioi, no, hai da un muro, volete vedere, volete vedere, abbiamo ricevuto il regalo partito di delfini, ragazzi, unico! Chiudilo, chiudilo! No, 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 no! Go in the pool! Oh no! E' fantastico, bro! Allora, facciamo un bel laggio! No! Ti sei aiuto! 3, 2, 1! Oh allora ragazzi, la situazione è drastica, Define mi ha appena scritto, mi auguro... sto dicendo... Entro le 13 e 30 devi convincere 10 ragazze a lanciarsi in piscina, ok, se riuscire a farlo otterrai un regalo molto molto importante per te, altrimenti partenza in arrivo. Girls! I have a question for you! Because it's so, so, so important! Ok, I have one hour, devo trovare 10 persone? 10 persone? 10 people? If they want to make... In pool! Make... In pool! Do you want? Yeah! Ti va di buttarti in piscina con tutti? Ho male alla clavicola! No dai, non fai il mio nome! No ragazzi, siamo già due! You know what I'm saying! 3, 2, 1, let's go! No, ma già si sai, you know what I'm saying! Però fred, sa più che la piscina è bella piena! Infatti, la pool è full! You know what I'm saying! Va bene! Adesso? Adesso! 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 Let's go! Let's go! Let's go baby! Let's go! Let's go! Let's go! Ok, ok! Abbiamo atto! Bunny! Le scarpe e buttati! Le scarpe e buttati! Noi ne vogliamo quel beacli però il tuo! Let's go! Let's go! Allora ragazzi abbiamo un grandissimo 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 problema! Posso invitare dieci persone? Quindi? Mi tocca convincere una delle ragazze che tutti mi ha rifiutato! Ci proviamo? Solo mi tocca prendere adesso e buttare l'acqua! No 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 dai! Aspetta! Dopo dopo dopo! Scusami! Perdonami! No no adesso! Aia! 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 Let's go! Mazzaro venite anche regà! Non mi parla di butti! Non mi parla di butti! Abbiamo la diecima! La diecima verso! Let's go! Dieci! Let's go! Let's go! E questo è un punto che appunto ci saranno un po' di sfide no? Facile? Dici un po' cosa ha detto Defa! Allora Defa ha scritto questo! Oggi ho voglia di mettervi un po' in gioco! Gli uni contro gli altri! Ci sarebbero diverse sfide! Quindi ci aspetteranno tante diverse sfide! Ok! Da fare! Però però! Chi perderà! Farà una penitenza! Super stra imbarazzante! E di queste cose sono molto contento per il semplice fatto che Né io! Né io! Né io! E appunto siamo in questa squadra! Perché appunto saremo i conduttori di questa giornata E niente, io direi di iniziare con la prima challenge Spesso tutti qua Allora ragazzi, chi è squadra blu e chi è squadra rossa? Rosa Rosa Ok, ok Adesso vi dobbiamo far vedere che giocatore a taga Preparatevi perché vi giuro Io morirò delle risate Voi un po' meno Ognuno di voi avrà in mano questo aggeggino Ok, così Ok Noi faremo partire, toccheremo questo bottoncino Questo bottoncino farà un suono E appena si fermerà quel suono dovete schiacciarlo No, no, no E appena si fermerà dovete schiacciarlo per prima Lui schiaccia prende la scossa Go, user, vai Let's go No, 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 no No, no, no Sì, sì, sì È buon'è Ma scossa, l'ho lì non può poter creare lo schiacciato che ansio mamma sei tanto preoccupato vero no no mancano 3 sono rimasti gli ultimi 3 Davide contro Chris e Jakob ce la farà il nostro Davide aiuto no non lo fate in nervosire facciamo questo al buio al buio vai non teccarlo e la squadra rosa giusto? e la squadra rosa ha vinto posso dire questo mi strafocca da uno Davide non vinciare non vinciare io eccoci qua per la seconda sfida appunto la seconda sfida cos'è? è frisbee abbiamo la squadra blu da una parte e la squadra rosa dall'altra parte siete pronti? si ok ok let's go è nulla rega iniziamo la seconda challenge let's go scape a terra partiamo dai split pam davide vogliamo la var var let's go var ok devo dire che Ayo ha fatto fallo però siamo un attimo in silenzio inizia non mi avete perso il gioco il kick ci arriva no 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 che buono che bello ultimo point facciamo che chi fa il punto ha vinto sei sicuro? ok vabbè go 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 vabbè vabbè ho preso il frisbee ho preso il frisbee ho preso il frisbee per me è fallo per me è fallo per me è fallo per me è fallo facciamo la VAR facciamo abbiamo la vittoria ma la squadra pink maialino e siamo già alla terza sfida della giornata ragazzi qui sarà la sfida più saporita spieghiamo il gioco conoscete tutti il nostro beer pong abbiamo voluto un attimo modificarlo il beer pong c'è nel senso non è molto non è abbastanza graffa non è da poi capito you know what I'm saying è il cajaram capito guarda si mangia bene cioccolata calda immagina oh my god no allora aceto vinegar ok aceto vinegar aceto latte pepe schifo milk and pepper ok and lemon ok beer pong ok siamo pronti posizioniamo primo prima se vuoi bere del lato con l'aceto tazzate vediamo dopo molto buono l'importante è che lo sapete vai così giocate tu ok iniziamo lo gioco bravi è molto rapido no torsi a me piace a me piace a me piace a me piace tira bene no sei tu sì io posso farlo sì guarda adesso giulia ma raga poi mi fa schifo che ha detto così giù tutti i sorsi la beuta la beuta la beuta dai bravo buono cacao dai vabbè tranquilla qui oh 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 è un limone cheers limone raga sempre però bravo abbiamo supporto wow wow guarda anche lei come ha fatto guardala guarda ho visto il rimonte più difficile abbiamo abbiamo aia in testa aia 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 real german real german real german real german real german ed eccoci qua per l'ultima sfida you know what I'm saying abbiamo le due scatole e uno di queste c'è la penitenza appunto aprite pure aprite tutti e due yes adoro loro hanno tutte le pistole d'acqua ne abbiamo queste ok ragazzi mi state a sentire adesso avete 30 minuti andiamoci in piscina 30 minuti per riempire più gavettoni che potete ok e vediamo esteticamente chi secondo noi dopo che iniziate a lanciarveli la guerra la guerra voglio l'inferno più totale ha vinto allora ragazzi siete resi? sì ho bisogno di due capitani uno dalla squadra e l'altro dall'altra squadra wow è Clema Cosini no, no, no sta per iniziare la sfida siete pronte al tre potete andare tu corri dal tua squadra tu corri dal tua squadra 3 2 1 go 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 10 7 1 10 10 10 9 10 10 10 10 11 10 12 12 12 molto bravi però visto che comunque secondo me la squadra tipo di tommaso e così c'è esteticamente parlando ha colpito di più la squadra vincente che quadra è questa che quadra è blu quella rosa mamma mia ho un po di caramelle in camera e i vincitori sono 5 minuti neanche per scegliere tre persone che faranno questa penitenza quindi non è grave è più imbarazzante che grave io vado a prendere la penitenza voglio che torni insieme a me e mi diciate chi sono queste persone ok che succede per la penitenza ma sarà una cosa super divertente non devi fare niente che già sono imbarazzante così senza niente questo questo non sarà niente di più ok tutti qua è tutto pronto i ragazzi sono pronti chiamiamoli li facciamo uscire un secondo ragazzi grazie 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 siamo divertiti eh un applauso ai conduttori ragazzi grazie giù grazie 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 alle prossime No, 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 no